Ah, signor Federico, buongiorno Giovanni, come va? Che leghiamo, eh? Queste mele, per favore. Molto bene. Buongiorno. Linda, c'è papà. Ciao, bambini. Guarda che belle mele. Le ho prese per te. Io le ho prese per la colazione. Ma dove sono le mele? Qui. I biscotti. Dall'abbraccio tra le mele più buone e i biscotti più fragranti nasce cuor di mela. Il frullino ripieno di morbidi pezzetti di mela. Provalo domattina per una colazione sana e naturale. Mangia sano, torna alla natura con un mulino bianco barilla.